Salve a tutti amici, sono sempre YoCold e benvenuti in questo nuovo episodio di Project Zomboid, diario dell'Apocalisse Per una volta faccio un intro, non c'è Xplayer, questo qua è un voiceover in post-produzione Perché c'è stato un problema con questa registrazione, in particolare con la prima parte, cioè i primi 55 minuti circa Perché alla fine, andate via la luce, e purtroppo registrando in formato mp4, il file difficilmente è recuperabile Ora, io sono riuscito a recuperarlo, ma purtroppo non sono riuscito a recuperare la traccia audio Adesso vi faccio sentire com'era la traccia audio subito dopo aver recuperato il video, così capite perché non ho potuto integrarla Ho condensato in massimo 4 minuti, se non sbaglio, i progressi che sono stati fatti Adesso ve li spiego andando avanti e poi riprendiamo con la parte di video che invece è registrata e funziona bene E dunque, prima di tutto, essendo che nello scorso episodio ci siamo diretti di nuovo verso la base militare Abbiamo deciso di terminare tutta la parte di controllo delle camerate E questo è stato molto importante perché abbiamo trovato parecchie munizioni e caricatori strautili Abbiamo controllato anche gli altri edifici o comunque le altre stanze della base militare Sempre nel complesso principale, giusto per trovare alcune provviste In particolare il magazzino della cucina e la cucina stessa ci hanno fornito un po' di ingredienti che male non fanno Dopo aver controllato quella zona invece ci siamo diretti ai due hangar principali che erano subito a nord E lì ragazzi abbiamo fatto jackpot, cioè abbiamo trovato parecchie risorse edili di costruzione, gas propano Ma abbiamo preso relativamente poco, giusto quello che ci serviva Perché queste qua le marchiamo in mappa semplicemente Da video si vede che ci sono tantissime provviste ricostruzioni Ma a parte l'occasionale WD-40 difficilmente abbiamo preso altro E c'è anche parecchio carburante Questo sia per l'hangar che sta subito dopo la struttura militare Più quello a nord, discorso analogo Abbiamo trovato anche qualcuno del luogo e l'abbiamo dovuto convincere ad andarsene Ma le risorse che ci sono all'interno sono tutto sommato le stesse Infatti, vi ripeto, non abbiamo preso nulla proprio perché ci saremmo caricati per nulla Noi siamo venuti qua per munizioni, armi, modifiche e così via Infatti, una volta che abbiamo marcato le risorse in entrambi le parti Quindi in entrambi gli hangar Ci siamo diretti nella struttura di mezzo, mettiamola così Che è un magazzino, zona abitativa Poi in realtà abbiamo scoperto che è un centro di comando E lì qualcosa abbiamo trovato di armi Principalmente la cosa più importante è stata l'arma preferita di X-Player Che è il fucile da tiratore scelto Lì abbiamo trovato un bel fucile che lui potrà poi utilizzare Per fare la sua attività di pulizia dai tetti A parte quello, abbiamo trovato ancora qualche armatura Bella, pesante Ad esempio da IOD Specialist Quindi sono quelle anti-esplosivo E queste qua, come armature, riparano tantissimo ma rallentano A parte quello abbiamo trovato qualche caricatore di nuovo E un po' di munizioni Questo discorso bene o male si applica su tutto il resto del complesso Che abbiamo cercato, comunque che abbiamo ispezionato A differenza di un'unica struttura che invece è medica Lì abbiamo trovato parecchie risorse mediche E a parte quello in realtà ci sono tanti container chiusi Ma abbiamo deciso sia per una questione di orario che di sicurezza Di non aprirle semplicemente per evitare di far rumore Comunque abbiamo trovato un bel po' di armature, un bel po' di armi E soprattutto un bel po' di munizioni e caricatori Passata la notte abbiamo terminato sempre con questa parte del complesso militare Per poi effettivamente caricare tutto sui mezzi Principalmente abbiamo fatto dei borsoni E ci abbiamo messo parecchio per caricarli E poi abbiamo caricato appunto tutto sui mezzi E ci siamo diretti verso la base Cioè in realtà abbiamo fatto tutto il viaggio di ritorno Però eravamo stracarichi Ma davvero davvero carichi Detto questo vi lascio il resto del video Ok, ti ricordi dove ci fermavamo per caricare la gippetta? Sono lì Lì ci riesci ad arrivare? Sì, devo staccare il carrello però perché è in mezzo alle balle Sì, 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 tranquillo Non riesco a passare Oh, quante bestie mie Vado a prendere anche il resto Anche ho portato della roba pesante e sono già affaticato Ok Le munizioni te le ho imballate Questo lo prendo come secondario Vediamo se posso ficcarcelo dentro Oh, sì Occhio No, non dovevi venire qua Vabbè, sì, meglio Già, così se non vengo qua direttamente senza Aspetta, aspetta, aspetta Fermo, fermo, fermo No, mannaggia, non ci arrivo Beh, forse sì Yes Sì, ce la faccio Ah, ma Non ci sta, è strapieno già Facca, il carretto l'ho appena scaricato Borsone militare, aspetta Magari riesco a caricare qualcosa dentro il borsone militare Sì, anche sta carabina Cioè, tanto Sì, che spara Cos'è Oddio, in realtà spara dei bei colpi Però, cioè, basta No, no, no Ah, no, il lettino Ce l'abbiamo, il lettino Ah, bene Sì, è da dentista Sì, è quello, è quello Bene Oh, ci siamo Le munizioni Te l'ho detto Che te le ho prese, no? Sì Ah, non ci sta nel bagagliaio Strapieno Vabbè, sono in sedile Eh no In sedile ce n'è Soltanto uno Vabbè, fai una cosa Portami al rimorchietto Anzi, sai cosa Ti lascio sul sedile Uno dei due borsoni Ti carico il sedile Il più che posso Il resto me lo porto a mano E ti raggiungo Zombie non ce n'hai detto, giusto? No Bene Ok Fermo un attimo qua Sì Non lo fa mettere Sedile anteriore e destro Vai Tutto tuo Eh, quelli vicino alla Torre Le abbiamo presi? Sì, sì Tutto Abbiamo preso tutto Tranquillo Compresa l'armatura Quella grossa Il mio obiettivo è poi Costruire queste Queste recinzioni qua Alla base Sì Tarebbe figo Ok Quindi adesso Questi li carico Oh Questo era vicinissimo Sì Porca troia Vediamo di levarci va Stai attaccando? Ok Attaccato Perfetto Vai Butto dentro E butto dentro Perfetto Caricato Da dove passiamo? Mmm Ti direi ovest Sono un po' meno ingorghi Sì Alla fine ci sono anch'io Carovana Mmm Poi il problema sarà il centro città E tutti gli altri ingorghi Prima di casa Sì Vabbè ma Beh oddio Vedremo Oh che ti rallenta troppo Meno male davvero La prima volta là C'eravamo anche Cosi bloccati Sì Mi ricordo Abbiamo fatto prendere Un po' di spaventi Ti ho un attimo perso di vista Oh Cazzo Oh Che orda Fammi passare dal lato va Ho già spostato i mezzi qua Te li ho attirati un attimo Faccio un giro un po' più largo Perché lì non ci passo Infatti lì non ci passo Quindi ho fatto un giro largo Io continuo eh Sì sì Non ti preoccupare Ti attirò via dalla strada Ma io ricordo che tagliavamo qua Fai quello che vuoi Se pensi di poter tagliare Beh allora L'obiettivo è tornare alla base Giusto? Sì sono i salvi Perfetto Ci vediamo alla base allora Ok Comunque tu con l'orientamento Sì sì Zero Zero Secondo te perché mi piace stare in base? Ah hello Come cazzo? Come ho fatto ad arrivare io prima di te? Ah perché ho tagliato brutalmente Ecco perché Si è noto la stradina E poi tu sei Sei più velozio Sì Quello sì Oh ma qua c'è C'è un rimorchio per il carburante Ma ti direi che Sì ma tanto guarda Probabilmente è l'ultimo Dei nostri problemi di carburante C'abbiamo quei barili sotto Che già avevano del carburante di loro Ahia che botta Va bene E tu direi Che cazzo me ne frega che tu stai bene Era la macchina che doveva arrivare integra Sì l'ho detto prima Eh vabbè ci ho provato Mi fermo un attimo al negozio Alla ferramenta Perché devo prendere un po' di Provvistedili Cemento Asfalto Intonaco Quella roba lì Perché dobbiamo iniziare a Sistemare un po' anche l'edificio Tra l'altro Indovina chi non ha preso il letto No sei un coglione Io non ci posso credere Perdonami E' uscita naturale E' uscita naturale Perdonami però Cioè Siamo coglioni Eh sì Vabbè dai scarica la colpa Sì sì Metta del barile a te Metta del barile a me Va bene dai Sacco di intonaco Sacco di merda Esatto Pensavo proprio a quello Non ho trovato il cemento Ho trovato soltanto L'intonaco e l'asfalto Un attimo se c'è qualcos'altro Magari Vado al piano di sopra Ah altri due sacchi di intonaco Bene Oh ma sai io non ho trovato il cemento Buono Eh ho trovato tutto Tranne che Oh merda Uno zombie qua fuori L'ho detto io Porca caccia la puttana La puttanaccia Ho preso un Un attacco di freddo In piena estate Ma ho preso un attacco di freddo In piena estate Hai sentito bene Ce l'abbiamo dell'abbigliamento Per stare in casa No eh Mh Qualche camicia Ma sì Ce l'avremo in giro Ma sì A parte che poi basta Basta No vabbè Basta mettere su una lavatrice Una asciugatrice Siamo a posto Non avevi ancora finito il perimetro Giusto No Ok Sai cosa non abbiamo trovato Pannelli solari Anche perché Forse forse Non abbiamo Non abbiamo più controllato Degli edifici Industriali Commerciali No ho consigliato Quello là A Cimetro Sì quello me lo ricordo L'avevi detto Allora L'intonaco E il cemento Scusa Intonaco e asfalto Li lascio di sotto Che tanto non ci servono Niente dentro Va bene Oh casa dolce casa Che bello Che bello Oh sì posso farlo Che bello Cosa Devo ridere le barricate Senza le finestre Come puoi Come Ding dong Grande Però da fuori Mi sa Eh vabbè Sempre meglio Che un calcio nel culo In culo Merda Cosa ci siamo dimenticati Cosa ci siamo dimenticati Le casse Le casse Vabbè Ce le abbiamo Cosa ho appena fatto Ho distrutto un muro Che non dovevo distruggere Grande Lo puoi ricostruire Sì Però mi manca il colore Allora Quindi Secchio d'acqua Poi mi serve Magari mangio una cosa Prima Fai secchio d'intonaco Vai Io devo rischiare il culo Nel mentre Vediamo un po' come funziona Secchio d'intonaco No Ripara la crepa del muro No ma di che cazzo Stiamo parlando Xplayer Xplayer Ma è una figata Sto riparando le crepe Nel muro Ma per fortuna Ma è bellissimo Cioè noi ci occuperemo Di tutto qua Tutto Dalla A alla Z Rifaremo tutto Di sto posto Un albergo Un albergo Un albergo Volete partecipare pure voi Nessun problema Non vi preoccupate Ve lo possiamo fare Però Non è vero No no Non servete mai No esattamente Però vedi qua Non me lo fa fare Tra l'altro sul soffitto Abbiamo ancora la spazzatura Sì vabbè ma è normale Lassù non ci stiamo Facendo proprio Attenzione La monnezza Oh però non mi fa riparare Tutte le crepe nel muro Cioè tipo Fuori si Dentro no The fuck Perché Why Perché mi odi Vabbè allora Fammi una cosa Vista l'ora Io ti direi che Potrebbe essere il caso Di andare a dormire Sì Quindi Buonanotte Buonanotte Domani vediamo di finire Con i lavori Vabbè Ciao Notte notte Notte